5.020, che mi sembra veramente quanta di più, insomma, di peggio un DXer che ha la possibilità di ascoltare in quelle finestre, quelle frequenze, possa desiderare. Vi dicevo, siamo alla fine, ci rimane solo qualche secondo per inviarvi a www.bcdnews.it per le nostre iniziative in rete dedicate al mondo della radio e del radioascolto internazionale, a www.cdx.it per tutto quello che riguarda questa trasmissione e cercateci su Facebook dove ci intratteniamo per tutta la settimana. Alla prossima settimana, la domenica prossima, e per chi ci ascolta e non decorte, saremo sui 9.790 KHz, frequenza estiva, fino all'ultima settimana di ottobre. Da Roberto Scaglianè è tutto, l'appuntamento è rinnovato a Suio di X, numero 665, fra 7 giorni stesso orario e stessa frequenza, almeno per tutte le altre emittenti, tranne che per AVR 9790. Alla prossima, buoni ascolti! Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza. Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza. Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza. Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza. Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza. Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza. Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza. Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.